Ciao a tutti, sono Federico Melis, vi aspetto alla palestra New Gin Tonic di Rivarola. Negli ultimi dieci anni vado e vengo, due o tre anni, poi altre prospettive. Il settimo è un po' la mia seconda pelle, ci ho giocato da ragazzino, quindi cerco di rimanere sempre qui. È dal 93-94 che alleno e quindi la metà di questi anni li ho passati qua al settimo facendo scuola a calcio, settore giovanile. È quello di cui c'era bisogno perché mi piace stare in questa società. Ecco, quindi lei ha vissuto un po' gli ultimi cambiamenti societari, ci vuole dare una sua opinione? Ma la società è vero che è cambiata a livello dirigenziale, ma per gente come me e come tanti di noi che ormai conosciamo tutto è come se non fosse cambiato niente. Poi questi aspetti burocratici e dirigenziali, almeno in gente come me che ama allenare i ragazzi, li vivi relativamente perché poi il problema che può avere la società economico o strutturale è una cosa relativa. Noi quando entriamo in campo e insegniamo, educhiamo i ragazzi alla disciplina e alle regole del gioco, ci dimentichiamo tutto il resto e ci scrolliamo di dosso tutto. Senti, il 99 sono degli adolescenti, hanno 14-15 anni quest'anno. Come ci si trova ad allenare dei ragazzi così giovani? Con la passione che ho, anche io in passato ho allenato anche un po' tutte le categorie, anche una prima squadra di terza categoria, con la passione che hai sopperisci a tante cose. Personalmente, anche se vivo una realtà dilettantistica, mi sento un professionista perché cerco di dare sempre il meglio, di aggiornarmi e pretendo. Sono ambizioso e sono esigente. Questa, i giovanessimi, è una categoria delicata, particolare perché i ragazzi escono dalla fase della scuola a calcio che sono molto adolescenti e dove pian pianino intraprendono il cammino per entrare nel calcio dei grandi. La scuola a calcio è un mondo bellissimo, fatto di tanti bambini e dove tutti hanno possibilità di giocare, di divertirsi perché magari ci sono anche due o tre gruppi. Man mano che si comincia a intraprendere il cammino dei giovanissimi in su, ci sono delle scelte da fare, comincia ad essere selettivo, i ragazzi bisogna avere tanta pazienza. Però noi come società e io personalmente programmiamo e curiamo nei particolari un po' tutti gli aspetti psicologici e relativi al gioco del calcio. Si cominciano ad avvicinarsi all'età adulta anche dal punto di vista calcistico. Come sta andando il vostro campionato? Il nostro campionato, più che mirare al singolo campionato, stiamo cercando di far crescere questi ragazzi per poterli proiettare nel futuro calcistico. Per cui c'è sì l'obiettivo di vincere e di ottenere risultati, però la cosa importante è cercare pian pianino di traghettarli nella categoria poi superiore e farli crescere anche a livello di testa. Perché bisogna cominciare a fare le cose seriamente e non più pensando che sia solo un gioco. State affrontando comunque il campionato regionale? Noi facciamo i provinciali perché non ci siamo qualificati nella fase autunnale. Adesso è andata male un paio di settimane con due partite perse con degli scontri diretti. Però ripeto, l'obiettivo è quello di cercare veramente di crescere questi ragazzi e continuare a farli crescere. Non avendo fretta, non assillandoli, cercando pian pianino di portarli a giocare sempre con più autostima e voglia di continuare a farlo. Grazie. Grazie.